Sin da bambino, quando sentivo il rombo dei motori, mi trufolavo nel circuito di Monza per vedere quali automobili giravano in pista. Dal 1970 ho unito i miei due grandi interessi, fotografia e automobilismo, e sono diventato un fotografo professionista. Certo, negli anni il mondo della fotografia è cambiato, i ritmi sono diventati sempre più rapidi. Finita la gara in pista, inizio un'altra corsa, quella per scegliere le foto più interessanti, elaborarle ed inviarle. Oggi, con la rete veloce 4G di Vodafone, invio e ricevo file molto pesanti ovunque mi trovo. Scatto, seleziono e mando i file delle foto. Essere un ready business per me significa gestire una piccola agenzia che offre una grande professionalità in tempi da record.